Buon pomeriggio dallo Stadio Ferrante di Piedimonte Matese con l'appuntamento del dopo partita, le interviste sulla gara di oggi fra Piedimonte, Treppini e Spinete, proprio mentre il pubblico che vedete in questo momento sta lasciando lo Stadio Ferrante. La gara è finita 5 a 2 per il Treppini con 4 gol di Napoletano e 1 di Varricchione. Ora la sigla e poi subito dopo ci ritroveremo per il commento tecnico di Emidio Bianchi e a seguire le interviste dagli spogliatori. Allora Emidio, una goleata, però forse ci stava qualcosa in più, tenuto conto che l'avversario, diciamoci la verità, era modesto. Ma modesto, però tutto sommato ha fatto un paio di gole e stava addirittura rimettendo la partita. Fortunatamente Napoletano si è guadagnato un calcio di rigore, ha fatto 4 gole, ha sbagliato un altro rigore. Comunque è stata una partita piacevole, piacevole. Purtroppo Piedimonte si è dovuta un pochettino adattare con dei giocatori messi fuori ruolo, però tutto sommato l'allenatore è stato bravo a spostare le pedine sul campo. Una buona partita, sperando che il portiere non faccia più un paio di svarione come l'ha fatti oggi, perché in altri tempi magari la partita poteva essere compromessa. Per quanto riguarda la squadra, speriamo che in settimana i dirigenti sappiano portare qui a Piedimonte qualche giocatore valido da alternare a questi che hanno giocato oggi, anche perché la classifica è ancora corta. Piedimonte potrebbe anche dire la sua. Non diciamo per vincere il campionato, ma per la zona play-off, alta zona play-off potrebbe anche esserci. Bene, grazie Emidio. Già vedo le nostre emiate pronte dagli spogliatoi delle due squadre. Infatti andiamo immediatamente negli spogliatoi del Piedimonte dove c'è per noi Valentina Monte. Valentina, te la linea. Oggi sono in compagnia del dirigente Loffreda e naturalmente di mister Palazzo. Mister, oggi i ragazzi hanno mostrato un buon affiatamento di squadra, degli ottimi passaggi che ci parla. Lei cosa pensa? Cos'è che oggi ha premiato questa squadra? Ma guarda, l'ho detto anche nello spogliatoio prima, la prima parte del primo tempo l'abbiamo fatto bene. Infatti in 20 minuti eravamo già sul 3-0. Poi però, devo essere sincero, la seconda parte del primo tempo non mi è piaciuta. Ci siamo un attimino disuniti, siamo stati superficiali, convinti che la partita grossomodo già la avevamo in tasca. e questo non va bene, non va bene perché con altre situazioni, altre squadre più esperte ne possiamo pagare caro. Mentre nella seconda frazione eravamo consapevoli di avere in mano il gioco ma soprattutto il risultato, la squadra mi è piaciuta. Infatti nel secondo tempo non crede che l'intensità di gioco sia calata? Ma è normale a mio avviso, ma tutto era dipeso dal risultato. Comunque la nostra è una squadra molto giovane in questo momento del campionato. Basti pensare che abbiamo iniziato con quattro anteri in campo e il più anziano mi sembra che erano un 92 e un 93, Daniele e Nicola. Quindi è una squadra giovane che ha bisogno di migliorare e capire in alcuni momenti che va anche gestita la gara. La prossima settimana trasferta col Vasso Girardi? È una partita abbastanza dura, ma bella dove tutti quanti sicuramente ci tengono a giocarla. Cercheremo di prepararla al meglio e fare la nostra bella figura. Grazie mister. Adesso passo la parola al dirigente Loffrida. In casa Biancoverde è arrivato il nuovo portiere. Non crede però che per continuare ad essere competitivi bisogna continuare con una campagna acquisti? Sì, assolutamente. Diamo il benvenuto a Vicolli, portiere classe 98. Abbiamo preso un under per cercare di migliorare e di mettere più esperienze in mezzo al campo. Ovviamente il nostro lavoro sul mercato continua. Il mercato è aperto soltanto da due giorni. Stiamo lavorando, abbiamo dei contatti avviati e sicuramente in settimana ci saranno delle grosse e importanti novità perché comunque siamo in una posizione di classifica che ancora dobbiamo guardarla con un bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Quindi abbiamo per forza di cose, dobbiamo rafforzarci perché comunque abbiamo avuto delle perdite abbastanza importanti e quindi anche numericamente dobbiamo aumentare. Ma stiamo lavorando, siamo attenti, vigili a quelle offerte, quelle opzioni importanti che si possono verificare. Staremo a vedere. Lorenzo, da qui è tutto, a te la linea. Bene, dallo spogliatoio del Piedimonte ora andiamo in quello dello Spinete dove ci aspetta con il suo ospite Maria Cavicchia. Te la linea. Sì, Lorenzo, sono qui con l'allenatore dello Spinete, mister Calabrese. Mister, una gara in salita, avete sofferto un pressing fin dall'inizio? Sì, abbiamo subito gol nei primi minuti della partita. Dopo un quarto d'ora eravamo sotto 3-0 e quindi la partita sicuramente molto in salita. Sapevamo della forza della squadra, l'attaccante napoletano ci ha punito tre volte nei primi 15-20 minuti. Poi potevamo anche rimetterla in piedi e il rigore molto probabilmente ci ha tagliato le gambe e questo è quanto. Tempo di mercato, si sa. La società ipotizza un buon acquisto per riuscire a puntellare i vari reparti? Ma queste sono cose a cui pensa il direttore sportivo e la società. Io faccio l'allenatore e cerco di mettere in campo i ragazzi che ho a disposizione. Sicuramente anche a livello numerico siamo un po' deficitari e se viene qualcuno di spessore, soprattutto nella parte mediana del campo, sicuramente ci potrà dare una mano. Oggi non ci dimentichiamo che eravamo un po' contati, avevamo tre assenti per infortuni e qualcuno che ci ha dato buco all'ultimo momento. Prossimo impegno con il Venafro, che gara sarà? Sicuramente sarà una gara difficile come questa, solo che giochiamo in casa e noi in casa ci dobbiamo salvare. La nostra salvezza passa soprattutto per le gare casalinche e il Venafro sicuramente è una squadra molto forte, ha giocatori di esperienza, ha giovani importanti, ma noi venderemo cara la pelle. Io ringrazio il mister e se non c'è altro risituisco a te la linea Lorenzo. Bene, se non c'è altro da aggiungere, ricordiamo che sabato prossimo sono in programma due importanti match, Vasto Girardi Trippini e Alife Gambatesa. La nostra trasmissione termina qui grazie alla regia, ai tecnici e naturalmente a tutti voi che ci seguite sempre più numerosi. Alla prossima, sigla! Alla prossima, sigla! Alla prossima, sigla! Alla prossima, sigla!